Una lista e un programma condivisi perché frutto di un'intesa basata su valori e obiettivi comuni, uno su tutti, essere la prima lista in Abruzzo e, magari, portare a Roma non due, ma quattro eletti. È iniziata oggi a Pescara la campagna elettorale di Italia Democratica e Progressista, che riunisce Partito Democratico, Socialisti, Demos e Articolo 1. Per il proporzionale al Senato il capolista è Michele Fina, segretario regionale del Partito Democratico. Per il proporzionale alla Camera, capolista all'attuale senatore Luciano D'Alfonso del PD. Abbiamo puntato sulle candidate e i candidati che ci credono sempre con coraggio. Questa è stata la scelta di maggiore cambiamento di questi anni di ricostruzione del Partito Democratico. Abbiamo tante cose da dire e le diremo in lungo e in largo in questa regione. Diremo dei no, no al cambio della Costituzione per mandare a casa Sergio Mattarella, cosa che vuole fare la destra, no alle centrali nucleari, no all'autonomia differenziata che impoverirebbe il Sud a partire dall'Abruzzo. Invece sì, a più lavoro più giusto per non lasciare nessuno indietro. Noi abbiamo un obiettivo concreto in questa campagna elettorale strana. Essere la prima lista in Abruzzo, così come in Italia. Battere fratelli d'Italia di Marsilio. Per la nostra regione noi abbiamo comunque uno spirito coalizionale e abbiamo fiducia che anche in vista delle prossime elezioni regionali tutto ciò che si potrà mettere insieme si metterà insieme. Quindi non sarà una campagna elettorale in polemica con tutti coloro che potevano essere alleati perché noi pensiamo che la strada dell'alleanza sia sempre percorribile. Comunque ci lavoreremo anche dopo le elezioni politiche. Io farò l'impossibile per far eleggere anche il secondo parlamentare Stefania Di Padova che viene dopo di me nella lista. Devo dire che 54 mesi fa ho cominciato ad assumere un'altra veste. Fino a 54 mesi fa era credito con il partito. Da 54 mesi a questa parte sono a debito perché ho avuto un pieno di fiducia per la ragione per la quale sono anche questa volta capolista. 54 mesi fa al Senato, adesso alla Camera dei Deputati. Io mi adopererò per fare in modo che i fiumi abruzzesi vengano ulteriormente resi oggetto di progetti finanziati per la loro piena riqualificazione. Vado in Parlamento non per parlamentire ma per ragionare e argomentare con tutti e far passare le ragioni della mia regione, del mio territorio. Però farò in modo che in Italia una regola fondamentale come la Carta Costituzionale insegna a tutti a rispettare i limiti e nessuno potrà cambiare la Costituzione per disegnarla come un abito su misura perché la Costituzione si innova togliendo dai tavoli del Parlamento i rappresentanti del Governo. Le regole si scrivono tra i rappresentanti della volontà generale non con la prevalenza dei punti di vista di chi governa.